Controlli porta a porta per la corretta pratica della raccolta differenziata dei rifiuti a Gela scatteranno dal lunedì 7 novembre. Agenti della Polizia Municipale ed operatori della Tecra appureranno che i sacchetti dell'immundizia conferiti rispondano all'ordinanza emanata lo scorso mese di agosto dal sindaco Domenico Messinese. La prima zona urbana interessata dal monitoraggio sarà a Capo Soprano, nel quadrante compreso tra Via L'Indipendenza, Via Europa, Via Francia e Via Palazzi. È una risposta nel rispetto di chi fa la differenziata correttamente. È chiaro che l'obiettivo imposto dallo Stato è il raggiungimento del 65% della differenziata. Oggi siamo intorno al 50%. Occorre aumentare diversi punti percentuali per cui è necessario che l'indifferenziato, cioè il secco residuo, venga ridotto al minimo aumentando le quote differenziate. Per fare questo è chiaro che ogni cittadino deve impegnarsi, così come sono impegnati il resto della popolazione che ci ha consentito di raggiungere questo obiettivo molto sfidante, il 50%. È chiaro che tutti quanti dobbiamo fare il nostro dovere e quindi i controlli saranno puntuali, porta a porta, per verificare che ognuno faccia il proprio dovere. E come saranno articolati questi controlli? Fondamentalmente il personale della Tecra nel ritiro dei rifiuti farà una ricognizione per segnalare quali sono i sacchi indifferenziati che sono anomali rispetto alla giornata di raccolta. Successivamente la Polizia Municipale effettuerà un controllo dei sacchetti, aprendoli e verificando i contenuti e la provenienza. Dopo il controllo l'ente gestore della raccolta dei rifiuti passerà a ripulire l'aria. Come si risalirà agli autori, a coloro i quali non rispettano le regole? Ogni rifiuto è riconducibile nel limite del possibile alla provenienza del proprietario, quindi la Polizia Municipale sa esattamente come deve fare a risalire. E cosa rischiano? La sanzione è prevista dall'ordinanza del sindaco emessa ad agosto che fa riferimento alle leggi specifiche in materia di normativa sui rifiuti.